Problemi di acqua a scuola? Sì, non c'è completamente acqua, non si poteva andare neanche in bagno. Che scuola sei? Qua all'Antonello. Stamattina senza acqua quindi? Sì, stamattina completamente, acqua a zero. Li hanno mandato a casa? No, c'erano le lezioni, quindi siamo tornati prima. Certamente senza acqua non si può lavorare se non c'è acqua. Il quartiere so che l'acqua c'è senza problemi, però se va in l'annunziata al momento non ha nessun tipo di connessione all'acqua. Ce l'ho, perché forse è basso, quando l'acqua è vicino, non lo so, cade di caduta, non lo so. L'acqua non arriva nemmeno in casa, io abito al primo piano e non arriva nemmeno completamente, arriva un filo qua, le persone arrivano qua alle 6 di mattina e ce ne sono i 50-60 cristiani che cercano di riempire l'acqua e poi se ne debbono andare.